Musica Salve a tutti ragazzi siamo qui su questo nuovo video di Payday The Haste Haste sarebbe il colpo per chi non lo sa Per chi ha 4 in inglese ok vabbè E siamo qui con Quering Mark Salve a tutti ragazzi sono Quering Mark E questo è un nuovo video sul canale di Shogunato italiano e oggi tratteremo Payday The Haste E siamo qui con Gianmarco è il primo video che facciamo insieme Sul canale e vabbè Iniziamo con il colpo Cioè il colpo sarebbe l'idea una mazzata no Lo prendi dietro e muore Così E vabbè per chi non conoscesse il gioco Il nostro obiettivo sarà quello di Cioè di derubare un'azienda Una banca o così via Un camion porta valori in questo caso In questo caso E dovremmo farlo possibilmente Ammazzando un numero minore di civili Rubando più soldi possibili Perdendo meno compagni possibili E cazzate varie Nel nostro caso Visto che stiamo Cioè lui sono incapace Non lo so come andrà a finire Vabbè vogliamo giocarla su un mattatoio Dove questi maledetti sfrutta animali Esatto E allora Iniziamo Questa bella rapinuccia Proprio Spicci una maravina Quanta una maravina 3-4 miliardi Spicci insomma Quello non ha la maschera Ah non hanno la maschera loro Che ne so Ma che vedi sono malati Ah beh Cioè ce dobbiamo mettere la maschera Colpisci il convoglio Ma come non mi fa saltare Eh no Si può saltare solo dopo che ci dà l'armi in mano Ma la fanculo Ok prendi il mitra Adesso arrivano Comunque c'è da dire che stiamo registrando entrambi E poi fare un tasco Ecco Ecco Guardate che botto E vai Spero dobbiamo scendere Seguimi seguimi Di qua di qua Lo so Lo so cosa dobbiamo fare Beh non lo so L'ho giocato due volte E sono morto entrambe Quindi Mi harddisk muo esplode E la terza volta che gioco Mi harddisk muo esplode Perché con fraps Che registra 120 giga al minuto Al secondo Sta per esplodere E anche a me laga un pochetto Si ma Stiamo a precisare Che non è la scheda video Visto che la mia 680 Apre i culi E non solo Però Eh cazzo Mori E' il mio harddisk Che fa pena Cioè fa proprio Allezzo E anche fraps Che ha preso tanto Cioè se gioco Mi fa 180 fps Però Non so perché La gaducce Le tirancuruccia Cioè ci stanno i guardi Ok Andiamo a ucciderli Dove sono? Guarda Dove scappi I bestia Mi devi coprire un attimo Che devo fare una cosa Ti stanno uccidendo Ma tu non farti chillare no? Ah Ah Mi fa un po' star nutisco Ehi Va bene Ok Qua guarda questo maledetto Che sfrutta il lavoro animale Va bestia Tu pure muori Si 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 Piazziamo il C4 Guarda questo In ginocchio In ginocchio In ginocchio Mori Aspetta aspetta Facciamo saltare col C4 Leva di incoglionito Che mu fa un botto Della madonna Ecco la cassaforte Montiamo il nostro bello trapano Ci sono un po' di telecamere In giro Non sbaglio Ah poi una cosa Delle cose È distruggere le telecamere Così la polizia Non può avvenire Ci stava Al piano di sotto Ci stava un garage Da cui entrano Le truppe speciali Se non sbaglio Le ho beccati Giro Dobbiamo Siamoci qui Ho messo il trapano Quindi Io mi sto facendo un caffè Giornato Dove se Dove sei Far caffè Ma che cazzo fai Ma vieni qua Ma vieni qua Vieni qua Ma vieni qua Incoglionito Andiamo andiamo All'attacco 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 No Andiamo All'attacco 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 È vero È vero Scusate Non confodiamoci Allora Allora Controlliamo bene I perimetri Perché Qua ci sbucano Da dietro Ci perforano Proprio il culo Ecco mi stanno sperando Maledetti No 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 Io sono morto Ma pure tu Però Erano in 50 Sono io quello Non è il botto Sono io che sono prove E devi dire Esista tutti Non sono io È un pro Maledetto Mi ha ucciso prima Ma ti può dare una coltellata? No Che cosa C'è uno squat Uno squat Uno squat Con l'armatura Ce ne sta solo uno C'è un esercito Qua c'è accettato Ossito le munizioni Tieni lì fermi da quel punto Tieni lì fermi Con 30 munizioni Oh qua c'è una mannaia Voglio usare la mannaia Contro la polizia Qua sta in mezzo al fumo Che è i botti dei capodanno qua Oh E non ho munizioni Come si faceva ricaricare? Aspetta R Eh ma per trovare le munizioni dei corpi Ah ecco così Con F F Posso piazzarle qui Vai sui cadaveri Vai piazzale Ah non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho Sì che ce l'hai Premi F Aiaiaiaiaia, sono morto Perchè non so quali... Perchè non sa... Cosa serve con la cassa In pratica è una, diciamo, borsa piena di munizioni che Può essere usata per rifornirci se basta tener il primo 2F Cosa che Marco non sapeva Aspetta, aspetta Oddio, mi stanno sporando Ma il trapano sta ancora andando Ah! Fumogeni Fumogeni Cazzo Basta adesso sono un ninja Si è impallato il trapano Si è impallato il trapano Coprimi coprimi Ti copro ti copro Manca poco Manca pochissimo 36 secondi Oh questa era bella Un paio di uccisioni miei Vanno messe Probabilmente nel video finale Vedrete delle parti di gameplay Giocate da me e delle parti giochi da Mark Perché faremo un bel puntaggio Vogliamo farlo fatto bene Ne approfittiamo per ringraziarvi dei Quasi 110 iscritti Abbiamo sofrato i 100 Si vi ringraziamo In neanche due mesi siamo contentissimi Con questo risultato Facendo video anche Non di giochi famosissimi Parliamo di show Ok fatto Chi mi spara? Oh c'è un altro qua maledetto Guarda loro Spara loro? No guarda loro Ho preso Mi stanno sparando mi stanno sparando Prendite una Prendite una cassa Di oro Mi si impallato il pupazzetto Ma come ti si impallato il pupazzetto Ma poi Prendi una cassa di roba Ma perché non si muove più l'o meno? Prendi una cassa è oro quello non mi si muove più l'omino ma cosa ah sto scrivendo in chat sono un handicappato sto scrivendo in chat come si leva la chat? non lo so io premi invio e scrivi dovevo prenderlo l'olio vieni più avanti vieni più avanti da me che c'è un casino ah con esitano le botte ditemelo 25 secondi 24 23 22 21 e ci sono restanti killa lo sparagli sul vetro sul vetro come si fa? come si fa salvarti ah f abbiamo perso bel video bel video è rimasto oxon in piedi si ma se non si bugga eh spara spara a tutti i quelli che arrivano ma perchè non rianima? ma è da rianimaci sta rianimando grande 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 si vaffanculo killa tutti i poliziotti non lo so quanti sono? quanti sono? sono morto di nuovo quanti cazzo siete? guarda quanti cazzo l'esercito abbiamo perso abbiamo perso nooo vabbè noi dobbiamo entrare e rubare tutto noi ci siamo travestiti da agenti dei tubi dell'acqua insomma agenti dei tubi agenti dei tubi vabbè vabbè senti ah servizio piscine spesce x 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 fiscine vintage x 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 Andiamo. Allora, questa amicazza, innanzitutto, prima di avviare il furto, no, fermo, che fai, che fai, cosa fai? Vieni qua. Cos'è una BMW dovrebbe essere? Ma non lo so, vieni. Allora, come prima cosa dobbiamo trovare il piede di porco, vieni qua. Che cosa è? Una Toyota o un Audi? Ma che cosa fai qui? Vieni, dai. Questa è un Alfa Romeo, è una Giulietta, guardala. Sì, ma la gente vuole vedere i... Ah, no, è una Giulietta, sembrava una Giulietta. Allora, cerchiamo il piede di porco, non iniziare il colpo fino a che non troviamo il piede di porco, è fondamentale. Ah, se sparo a questi? No, fermo. Cerca il piede di porco, sta in zona. Che ci servirà? Ecco il piede di porco, ho trovato. Io devo parlare a Mitchell. Vai, inizia il colpo. Ma hai detto seguimi, devo parlare con il tizio, mi stai dicendo di seguirlo. Vai, seguilo, seguilo. Vediamo. Poi gli sparo, poi l'uccido. No, 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 aspetta, vediamo se c'è per la porta. Che nabbo. Micchia, quant'è lato questo 2 metri? Ma sembri di Super Mario la versione brutta. Ah, ha aperto, ha aperto la porta. Che nabbo. Ma sembri la versione brutta di Super Mario. Adesso, aspetta, adesso. Secondo me... Ah, no, perdono i dubbi, ok. Guarda un attimo me, inquadrami. Bu, vabbè, tu sei benvenente Super Mario. Eh, allora, dobbiamo hackerare questa cosa. Hackerare? Non dobbiamo sparare a questo, scusa. No, 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 no. Inizio il colpo. Vai. Fatto. No, come? Aspetta, lo faccio io. Vai, vai. Tu vai alla casa a fianco. Vieni, vieni qua, vieni con me, vieni con me. La stazione non andrà al piano forte, ti è beccata di stavolotola. Vieni qui. Get down. Io vado ad attivare l'altro sistema qua da bypassare. Corri. Oh, stia. Tu sei, dove sei? Eh, sto sotto, non è sotto l'altra casa perché dobbiamo bypassare due codici. Eh, hai ucciso tutte, sei ucciso. No, 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 quella doveva. Dove va quella infame bighini? Sono scappati, non so se hai capito. Scappa alla gente. Non con me, non con me, muori. Ah, ah, ah. Ah, ah, troietta. Su, vuoti in arrivo, cazzo. C'ho il piede di porco, buchiamo un po' le porte. Ti serve un piede di porco, ho preso prima, cazzo dici. No. Bene. Tu sei bravo, non sei scappato, ti voglio solo legare. Una polizia che non puoi fare. Mi sembra non si aspettava che ce l'avevi dietro. Ciao! Ecco. Non mi immagino cosa stai facendo. Poi vedrai, poi vedrai. Eh, grazie. Dima che bella casa. Ma sì, bellissima. Entra dentro. Ah, si scendi giù e tieni quel coso lì sotto controllo. Io controllo l'altro. Ok. Ma devo sparare solo la polizia? Cioè non c'è? Esatto. Ma non c'è tanta polizia per il momento. Eh, per ora. Tu tieni la zona. Ma meno male che non ce n'è tanta. Oh, vedo dei proiettili, vaga. Dei proiettili. Oh, assalto. Ci stanno assaltando. Ah, se si può, volevo dire una cosa. Riguardo a un gioco che ho preso. Cioè Arma 3. Se vi può interessare come gioco, devo fare dei video con dei miei amici. Giochiamo online. E niente, se vi può interessare scrivono nei commenti, ditemi cosa ne pensate. Ma che bel giardino che ha questo. Ma una casa fichissima. Questo è proprio ricco. Dobbiamo derruparlo qua. Fichissimo. Ma i vicini non ci sono, non possono dare cassa. Mi miaccio di Anonymous. No, basta. Ma dove? Ma la polizia, non ci si sta inculando di pezzo, non ci si sta inculando di pezzo. Vieni fuori. Ma tu che stai a vedere le macchine? Eh, sono aperte, non c'è nessuno. Ah, ma tu tu sei nell'altra parte. Eh, ci sta la terza guerra mondiale qua. Ah, ecco. Dov'è? Non c'ho una mia al culo da lontano. Cazzo, no. Atterra il mio compagno. Fammi entrare in casa. Ma porca puttana. Basta. Oh, vai. Porca troia, mi puoi coprire. Non fai problema in te, rianimo il mio amico. Con un cazzo di cecchino, morite tutti. Cioè, cecchino tu. No, no. Però sparo bene. Allora. Devi riattivare il sistema, uno è disattivato, quello tu. Non me ne frega niente, qui ho massato ai polizziotti. Dai, dai. Vabbè, dov'è? Sotto. Sotto. Ma mi stanno sparando, ma basta. Il mio lo riattivo io. Il mio ha quasi finito pure. Bene. Dai, 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 dai. Sì, entrano qui, sono morti. Cioè, c'è solo una porta dove posso passare e mi hai detto qua, gli sparo. Sì, io li aspetto qua, guarda. Quanto manca per la tina del tuo bypassaggio? Eh, 200... no, 98 secondi. Ok, M37. Compagno di squadra a terra. Guarda quanti sono, guarda quanti sono. Cazzo, cazzo, cazzo. Io ho tipo la destra, quella mondiale alle spalle. No, io mi fermo qui. Mi piazzo qua dentro e si arrivano bene. No, no, beh, io non esco più, mi hanno quasi fucilato. 16 secondi, 16 secondi. Tanto poi da sottoterra noi ci incontriamo, non ti preoccupare. Ah, ok. Guarda, eh. 8, 7, 6, 5, 4. Solo dopo dovremmo controllare che la corrente rimane attiva, quindi dobbiamo stare sotto. Ok, a me ha finito. Ci mancano 60 secondi, 60 secondi. A me ha finito. Intanto vado sottoterra. Cazzo. Io mi sa che se lo fuori da testa mi fucilano. Perché non si apre? Ah, dobbiamo aspettare che finisci pure dopo. Io quanto? Mamma mia. Ma voi siete in tre, sono da solo, ma che cazzo. Esercito. Ma almeno ci riprendiamo tutti noi. Esercito proprio. No, no, sto bene da solo, a me non c'è nessuno. E' andato lì già, tanto li abbiamo fatti. Non mi si cagano. Che culo. Non mi cagano, non mi si cagano, vabbè. No, no, fermo, via. Guarda qua, è impossibile che entri, non c'è, sto qui, se provano a venire di fucilo. Ebbè. Beh, dovrebbe essere pronto. Dieci secondi, nove, otto, sette, andate, 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 non ho bisogno. Guarda, adesso, adesso ci incontriamo da sottoterra, cioè ci sta un passaggio segreto, vieni, guarda. E tu vai di là? Vieni. Scusa, che devo fare? Entra. Devi passare il corice di Wilson, l'altro. Ma che devo passare? Lo ha già fatto, qua sfondiamo colpi del porco. Diceli no? Sì, ho fatto. Ah, adesso, adesso dicevi. Ok. Questa è la cassaforte. Ma che cavolo è questo? Quello lì ti ricongiunge all'altra casa. Qua serve un piede di porco, dice. No, qua ci vuole il trapano. Qua serve un piede di porco, dice, qui. Eh, lo so. Lo uso io. Beh, se provano ad entrare sono morti, qua. Vabbè, però adesso dobbiamo portare il tubo dell'acqua e collega il trapano alla presa di corrente. Dove sta l'altro? Allora, il trapano alla presa di corrente ce l'attacco io. Ma dove sta quel cretino? È morto. Vabbè, morisse, è andato da solo avanti. Dobbiamo portare il tubo dell'acqua dentro sottoterra. E dov'è il tubo dell'acqua? Eh, lo sto portando io. Sto do prolungare. Bel casino. Ti devo coprire? Io non muoio, eh. Aspetta. Ecco, sono morto. Prendetevela con me, prendetevela con me. Sono morto. Vieni madame, no? Sali. Porca miseria. Allora è stato wolf. Cazzo. Vai, 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 giù. Porto il tubo giù. Oddio, qui. Aspetta, sto portando il tubo. Il taser, c'hanno il taser, scendi. Scendi giù, scendi giù. Vai, veloce. Ok, fatto. Quello è morto, non è restato. Vabbè, chi se ne frega. Dobbiamo mantenere la corrente attiva, però. Se no, il trapano si ferma. Quindi se staccano la corrente è un bel problema. Quello dobbiamo andare a rianimare. Vabbè, ci mettiamo i grecieti. Oddio, un esercito c'è. Un esercito. Ha tolto, ecco, ci hanno staccato la corrente, quindi il trapano non funziona. Dobbiamo andare a riettaccare. Sto salvando chains. Ehi, ma dobbiamo riattivare la corrente. Oh, porca broia. All'hanno arrestato, ma ci stavo io qua. Come l'hanno arrestato? Mannaggia voi, ma ce l'ho io. Come l'avete arrestato? Vabbè, abbiamo perso sia chains sia... Eh, allora, vedi di venire giù e dobbiamo riattivare la corrente, vedi? Guardiamo, con le mani, battiamo le mani e si attiva. Andiamo andando là. No, lì che non ci arriviamo. E già sto là, in pratica. Cazzo, ok, non ci sto più. Sono a dieci metri. Non è difficile qua ammazzarli, eh? No, ecco, sono morto. Perlo. No, non sei morto, sto qua vicino a me, che stai scemo. Sono morto io. Ti vedo qui, davanti a me. Come vedi qui? Io sto sopra. Eh, stai davanti a me, non mi vedi, credito. No, io sto morto. Manca 11 secondi. Io ti vedo in piedi che corri. Ma che cazzo ti dici? Giuro. Ah, adesso no. Sbrigati, 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 sbrigati. Grande. No, mi hanno attaccato un taser. Come faccio salvarti? Non lo so. Ammazza quello che c'è al taser. E non lo vedo. Ecco, sono rimorso. Ah, eccolo. Killalo. Eh, niente. Moriamo insieme vicini, vicini. Ma come? Ma cazzo. Va bene. Io direi che ci possiamo fermare qui come primo tentativo. Basta. Abbiamo fatto 10 minuti e 10 minuti sono 20 minuti di gioco e non ci siamo riusciti. Adesso procederemo al montaggio. ci fermiamo qui. Comunque, vabbè, ne riapprofittiamo per ringraziare di nuovo per i 100 iscritti e passa. E niente, speriamo di crescere. Speriamo di crescere come canale. Speriamo che il video non sia risultato troppo noioso, però penso sia divertente. Alla fine siamo morti come degli animali. Due volte, vabbè. Vabbè, dettagli, dai. Almeno siamo stati di livello, no, neanche quello, vabbè. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ci becchiamo al prossimo video, penso. che sarà forse con un altro nostro amico del clan. Sì. E per oggi è tutto. Alla prossima. Ciao. Salve. Arrivederci.